In fondo è solo una partita e ridurre tutto quanto agli acquisti di Vlaovic e Zaccaria sarebbe forse riduttivo. La Juve comunque ha ancora dei problemi che dovrà risolvere, però certo l'impatto di questi due nuovi acquisti è stato devastante, almeno in questa prima gara contro il Verona che pure arrivava con tante defezioni. Però al di là dei gol dei nuovi acquisti, quello che davvero ha colpito è stata la capacità di cambiare il mood della squadra. Parlo proprio di mood, cioè di atteggiamento, perché si è visto anche nelle sultanze tutta la squadra coinvolta che andava ad abbracciare i due nuovi acquisti, perché si è visto anche nel modo di stare in campo, nel modo di approcciarsi alla partita e di viverla, di giocarla, tanto Vlaovic quanto Zaccaria. Questi saranno davvero due innesti importantissimi, di fondamentale importanza per il quarto posto e non solo. Rimane quello l'obiettivo minimo della Juventus e a quello bisogna pensare in questo momento, tanto più che per la prima volta nella stagione è stato raggiunto questo obiettivo minimo. Ricordiamo che però l'Atalanta, prossima avversaria proprio della Juventus, ha una partita da recuperare. Però la strada è quella giusta e se l'impatto dei due nuovi acquisti continuerà ad essere questo, se Dybala giocherà come ieri sera, con grande grinta, con disponibilità e altrettanto morata, con sacrificio, con abnegazione, allora davvero la Juventus potrà dire la sua in questo campionato. Per il quarto posto e chissà, chissà, forse anche per qualcosina di più.